Partono subito bene i romignani boys e già nei primi minuti Titone fa vedere i sorci verdi ad Anania con una stilettata dall'interno dell'area di rigore. Dopo qualche giro di lancette Sirignano si scontra con Lex Samba Melara e lo staff medico è costretto ad effettuargli una vistosa fasciatura alla testa, ma il difensore non vuole mollare e decide di restare in campo. Plauso anche per lui. Nella ripresa è proprio Lex, che all'andata aveva siglato il terzo gol, a tentare di portare il suo in vantaggio, ma la conclusione ravvicinata si infrange sulla difesa rosso-blu e diventa facile preda per Marconato, che la blocca senza problemi. Risponde a Sirignano in contropiede, il terzino sale sulla fascia, ma il suo tiro viene deviato in corne. Al quarto d'ora della ripresa, dalla buona serve un cross con precisione chirurgica a Mosciaro, che, solo davanti a Marconato, si mangia un gol già fatto. L'attaccante, infatti, con un'incornata, assura il palo e sfedisce la sfera sul fondo. A metà della seconda frazione di gioco avviene l'episodio che porta la propatria in momentaneo vantaggio. Cusano calcia dalla bandierina e indirizza la palla all'interno dell'area di rigore, trovando Correa, che anticipa sia Marconato che Palladini, e gonfia la rete. I riveraschi non si perdono però d'animo e reagiscono. Alla mezz'ora Traini tenta l'aggancio con un fendente dai 30 metri, che viene intercettato dall'estremo difensore bianco-blu e tolto dall'incrocio dei pali. L'1-1 arriva in pieno recupero, quando forse nessuno ci credeva più, anche se la speranza, per tifosi e squadra, è sempre l'ultima a morire, e questo ha permesso alla Samb di fare l'impresa. Serignano converge per il match winner di domenica scorsa, Lele Morini, il quale serve a cammarata una palla filtrante. Riccioli d'oro anticipa Morello e con l'interno d'essa coltella Nani è in uscita. L'angelo tra i pali, Massimo Marconato, elargisce miracoli come ormai è consuetudine. Un attimo prima del triplice fischio, infatti, il portiere trevigiano devia con i piedi una palla di Mosciaro, che avrebbe potuto rovinare la festa sugli spalti ospiti. Un pianto liberatorio a fine gara spiega meglio di mille parole lo stato d'animo della Samb. Ora per il rosso-blu è vietato fallire in casa con la Reggiana. I play-out sono ad un passo, guai a farlo falso. I ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta. Mi hanno seguito in settimana nel preparare la partita e qualora fossimo andati sotto come risultato, sapevo che avremmo avuto un che di reazione. Reazione che poi si è verificata, non so, col tiro di Traini o viceversa, non so, con altri gesti di generosità o viceversa anche con un gran gol di Camarata. Al di là di quello, mi sembra un risultato giusto in riferimento proprio a quanto noi avevamo in corpo e diciamo anche a quanto aveva la Propatria in corpo. Perché la Propatria ha pareggiato ma da squadra vera, quindi un elogio va fatto anche a loro. Dopodiché mi auguro che nessuno magari vada oltre il seminato, perché noi non abbiamo fatto niente se non costruire un qualcosa per avere ulteriore certezza per agguantare i play-out. Dopo ce la giocheremo.